Tutti i gol di Atletico quarto panchina, finale playoff del girone D di prima categoria grazie alle immagini di Replayer.it. Al Monsignor Sanguinetti di Genova i padroni di casa bastano un pari nei 120 minuti per accedere al gironcino finale. La panchina cerca invece la vittoria. La partita si mette subito bene per gli uomini di mister Simone Pasticcio. Al quindicesimo minuto Raffo recupera palla a tre quarti campo e serve Turchato. Il classe 94 davanti a Torre non sbaglia e sigla il gol che vale l'1-0 in favore dei Chiavaresi. È praticamente immediata la reazione dei giallo-blu allenati da Roberto De Martino che trovano la rete del pari con il capitano Bettalli che sul cross di giudice elude la marcatura di Cogozzo e tocca il pallone quel tanto che basta a mettere fuori causa Rolandelli. Al ventesimo il risultato torna in parità ma esattamente 20 minuti più tardi la panchina è ancora avanti grazie a una perla di Nicola Raffo. La sua punizione velenosa forse deviata dalla barriera si insacca alle spalle del portiere. Esultanza alla Cristiano Ronaldo per il numero 4 dei Verdi che dopo l'assist mette a referto anche una rete. Proprio allo scadere del primo tempo l'Atletico quarto ha la forza di pareggiare. Parodi lanciato sulla sinistra mette un cross basso che Rolandelli e compagni non riescono a intercettare. Ne approfitta Susini lasciato solo sul secondo palo. Il tocco di prima col sinistro del numero 8 è vincente e si va a riposo sul punteggio di 2-2. Nella ripresa ancora Atletico quarto, questa volta Parodi da assistman si trasforma in goleador. Il suo mancino da fuori area dà un bacio al palo e gonfia la rete. La panchina deve ora segnare due reti per passare il turno. Ci pensa Busi al cinquantottesimo a pareggiare i conti e a sfondare nella difesa locale trasformando in oro. Un lancio lungo dalla difesa 3-3 con l'Atletico quarto che protesta per un contatto al limite dell'area tra Esposito e Turcato. La panchina pareggia ma rimane in 10 per l'espulsione di Martino. Nel primo tempo supplementare però fa l'impresa ancora con Busi sul cross dalla sinistra di Bacigalupo. Doppietta per il centrocampista e rimonta completata al termine di una partita a dir poco emozionante e ricca di gol. Al Sanguinetti finisce 3-4, passa la panchina.